Ben ritrovati per la pagina sportiva del TG Noi, l'apertura spetta di diritto a questo grande tau calcio che è andata a vincere a Livorno e ha conquistato la storica e meritata promozione in serie D. Vediamo come. Al picchi di Livorno in una giornata caldissima è il D-Day, Livorno contro tau calcio. Gli Amaranto e i mister Cristiani, che confermano lo schieramento tipo, hanno a disposizione due risultati, mentre padroni di casa devono vincere per festeggiare la promozione in serie D. In caso di parità si prospetta l'ormai ben nota situazione di tre squadre a cinque punti. Chiaro però che sulla vicenda legge a quanto deciderà la procura federale. Avvio fremente del Livorno, che prende da sedio la metà campo altopascese, all'undecimo traversa di Gelsi, che incorna di testa su cross dalla destra di Pulina. Tau fortunato. Al 17 primo squillo degli ospiti, con il numero 11 Benedetti, sarà grande protagonista, che si presenta al limite dell'aria e calcia verso la porta. Pulitore si distende e blocca la sfera. Quasi a ridosso della mezz'ora Ferretti scalda in guantone e di Biagio, che si distende e le spinge a mani aperte. Al quarantesimo cala il gelo sul Picchi, ripartenza miciriale di Benedetti, che si presenta tu per tu con Pulidori e lo trafigge con un destro chirurgico. Potrebbe subito pareggiare Livorno, ma il Dio e Opalla evidentemente sta dalla parte del Tau. Vantaggiato colpisce il legno esterno direttamente da calcio di punizione. Si va a riposo con la squadra di Cristiani, avanti 1-0. Nella ripresa Livorno ancora all'arrembaggio, che però così facendo si espone al contropiede altopascese. Russo salva sull'indemoniato Benedetti. Il difensore externo impedisce al numero 9 di mettere dentro a botta sicura. All'incedere della mezz'ora, Tau vicinissimo a raddoppio con Antoni. Decisivo l'intervento di Pulidori, che devia la conclusione del numero 7 in calcio ad angolo. Incredibile al minuto 82. Calcio di rigore per il Livorno, per un intervento di Mancini suffrati. Dal dischetto si presenta l'implacabile e infallibile vantaggiato, che però non ha fatto i conti con Di Biagio. Il portiere del Tau si esalta e para. Di nuovo gelo sul Picchi, in una giornata tipicamente estiva. Poi, in pieno recupero, Tau ancora ad un passo da raddoppio con Fazzini. Ormai è fatta, il risultato non cambia. E anche il piareggio avrebbe premiato il Deltopascesi, che adesso sono davvero in paradiso. Per la prima volta nella loro storia è Serie D. Il Livorno, invece, sarebbe ancora in eccellenza. Ma chissà, magari dalla Procura federale potrà ancora sperare. Estando in eccellenza, il pareggio piuttosto prevedibile tra Castelfiorentino e Baldaccio Bruni complica il cammino del Castelnuovo verso la salvezza. Mercoledì ore 15, gialloblu ospiteranno Castelfiorentino con l'obbligo di vincere. Meglio sarebbe anche un successo contro i reti di scarto, visto il risultato dell'andata. Il gironcino dei gialloblu si chiuderà poi domenica prossima con Baldaccio Bruni-Castelnuovo. E adesso il consueto commento alla giornata di Serie D da parte di Roelepore. Al buono riposo è andato in scena il derby tra Seravezza Pozzo e Ghiviborgo, importante soprattutto per la squadra dell'ex Walter Vangioni, alla ricerca disperata di punti salvezza per evitare i pre-out. Hanno vinto gli ospiti 4-2 dopo aver rimontato il 2-0 iniziale a favore del Seravezza, con le reti di Benedetti al terzo del secondo tempo, il raddoppio di Granario al decimo. Poi la rimonta dei Biancorossi grazie alla doppietta di Melandri al dodicesimo e il ventesimo. E nel finale sono andati in gol per le reti della sicurezza, Sorbo al 43esimo e Nottoli al 48esimo. Una rimonta che ha permesso al Ghiviborgo di scavalcare in classifica proprio il Real Forte Querceta. Adesso con il Ravenna in casa fra sette giorni è un match decisivo nell'ultimo turno per cercare la salvezza diretta. Con una formazione rimaneggiata a causa delle assenze, mancavano sia il bomber di Paola che lo squalificato Bartolini e con il recupero in extremis del portiere adornato, il Real Forte Querceta ha affrontato la trasferta di progresso in una gara dove l'unico risultato utile era la vittoria per poter centrare la salvezza diretta. Invece è terminata 1-1. Dopo sette minuti dal via Pietro Pegolla aveva portato i suoi in vantaggio, sembrava una partita in discesa e la Real Forte Querceta si era illuso. Poi è arrivato purtroppo il pareggio per gli ospiti con la sfortunata auto rete di Del Dotto al 16esimo del secondo tempo a suggellare davvero il momento sfortunato dei bianconerazzurri. I ragazzi di Vitaliano Bonuccelli hanno assaporato per più di un'ora la salvezza diretta, poi questa doccia fredda ed ora domenica con la San Maurese occorrono davvero tre punti preziosi. Il basket è grande prova del Bama al Topascio che in questa fase post-season pare irresistibile. La squadra di Giuntoli ha vinto infatti gara 1 della semifinale playoff 80-69 sul parchè della Laurenziana Firenze portandosi avanti 1-0 nella serie. Giovedì sera all'ora 21 al Palabrigge gara 2, eventuale bella domenica prossima ancora a Firenze. Sempre per il basket, il centro computer Cefa Basket fa 6 su 6, accede alla finalissima per salire in promozione da testa di serie. Domenica prossima inizierà la finalissima, la squadra di Michele Rocchiccioli non conosce ancora il nome dell'avversario che sarà reso noto nei prossimi giorni a Castelnuovo gara 1 e anche l'eventuale bella. Si chiudono con un gran numero di vittorie, si chiude con un gran numero di vittorie l'esperienza dell'Italia a Grosseto nella tre giorni dei campionati europei Master. Una guerrita pattuglia di atleti del gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana ha conseguito una serie di straordinari risultati. Oro a squadre nella mezza maratona Master 50 di cui faceva parte anche Stefano Politi. Argento individuale nella mezza maratona ancora per Stefano Politi, mentre il bronzo individuale sulla mezza maratona è stato conquistato, parliamo sempre degli atleti dell'Orecchiella, da Stefania Grasselli. Molto bene anche Isabella Pellegrini, abbiamo visto questi protagonisti nelle foto che si stanno succedendo, nei 5 km su strada, infine Simone Pierotti che ha chiuso decimo di categoria nella mezza maratona. La nostra provincia si arricchisce in questa settimana di metà maggio della presenza di alcuni dei migliori interpreti del biathlon azzurro, atleti di livello internazionale come Dorotea Virer, Lisa Vittozzi, Didier Biona e Tommaso Giacomel. Il raduno è la settimana dei biathleti azzurri e si concluderà sabato prossimo e si alternerà in questi giorni, abbiamo visto nella foto Dorotea Virer, tra i poligoni di Pietrasanta e il poligono di Sant'Anna a Lucca. I motori, Paolo Andreucci, davvero intramontabile, davvero infinito, vince anche l'Adriatico. Infinito e grande, ormai abbiamo esaurito gli aggettivi. Paolo Andreucci concede il bis e porta a casa il secondo appuntamento del campionato italiano Rally Terra 2022, il 29esimo Rally Adriatico che si è corso in una domenica caldissima, con 9 prove speciali e 70 km di tratti cronometrati sugli sterrati che, novità di questa edizione, hanno spostato il quartier generale da Cingoli ad Urbino. Il 12 volte campione italiano, affiancato alle note da Rudy Briani, ha vissuto un inizio di gara relativamente difficile alle spalle di Enrico Aldrati ed Elia De Guio, anch'essi su scoda Fabio Rally 2 Evo. Lucci si è trovata ad inseguire svantaggio massimo di 12 secondi, ma non si è mai scomposto, convinto che avrebbe saputo e potuto recuperare. Nelle prime tre prove speciali, infatti, il campione Garfagnino ha pagato il fatto di aver dovuto aprire le strade sterrate, partiva con il numero uno, con problemi di grip tali da portarlo anche ad una toccata all'anteriore destro della propria scoda nelle fasi iniziali della corsa. Dopo la sosta in parco assistenza, le cose però hanno iniziato a volgere al meglio per il driver di Castelnuovo e Oldrati, che è finito secondo, era costretto a cedergli il passo. Il finale era una sinfonia andreucciana, col trionfo e consolidamento della leadership in un campionato che pare già aver preso una piega ben precisa. Sul terzo gradino del podio un buon Costenaro, che la spuntava sugli ottimi Emanuele Dati e Giacomo Ciucci. Il pilota camaiorese e il navigatore lucchese hanno sperato anche di salire sul podio, ma per ora va bene così. Andreucci ha punteggio pieno ed ora il campionato terra d'appuntamento ai primi di luglio con il cinquantesimo rally di San Marino, quello delle nozze d'oro. Sarà festa grande all'ombra del Titano e chissà che tra gli invitati speciali e con la voglia di banchettare non ci sia ancora lui, il mitico e intramontabile Paolo Andreucci da Castelnuovo Garfagnana. E con i motori si chiude anche la pagina sportiva del TG Noi, un'altra breve pausa e subito dopo la terza ed ultima parte.